Buonasera cari amici, benvenuti al programma Toscano Raddoppia che chiude la settimana insieme. Questo come sapete è un programma, è una mezz'oretta che passiamo insieme per discutere di ciò che accade in Italia e nel mondo, per elaborare strategie mediatiche e anche in senso più strettamente politico. Oggi vorrei con voi parlare di più sull'aspetto politico della guerra che stiamo conducendo, perché di questo si tratta, non bisogna mai perdere di vista la realtà delle cose. Siamo in mezzo ad una guerra vera e propria, non dichiarata, contro un gruppo, una categoria di persone, quella dei non vaccinati, demonizzata, ostracizzata, diffamata, colpita, umiliata, impoverita, esasperata da un potere malvagio. E noi abbiamo il dovere di rispondere, di reagire culturalmente, mediaticamente, ma anche e soprattutto politicamente. Sappiamo che c'è una grande parte di cittadinanza che resiste. Questa resistenza si è materializzata per lo più nelle piazze. Noi abbiamo cercato di girare in quest'ultimo anno tutte le piazze d'Italia. Abbiamo incontrato tantissima gente, brava gente, gente dignitosa, a differenza dei balordi che sono al governo, gente buona che prova a difendersi anche attraverso uno spirito di solidarietà, di comunità. Noi queste persone le dobbiamo tenere insieme per costruire un movimento di popolo ben guidato, ben strutturato, ben organizzato, consapevole, forte, in grado di reagire colpo su colpo, di rispondere colpo su colpo rispetto alla vergognosa guerra che ci è stata dichiarata da questo potere malvagio. Per cui il nostro compito è quello di stare insieme, poi chi ha una ritrosia nei confronti della politica in quanto tale, dei partiti, può chiamare questo gruppo come preferisce, resistenza costituzionale, comitati di liberazione, nuclei di sostegno e solidarietà, chiamatelo come vi pare, però noi questo dobbiamo fare. Dobbiamo stare insieme, unirci, difenderci, sostenerci, perché il nemico è cattivo, ci odia ed è pericoloso. Per cui io vi invito ancora una volta a venire con noi in Ancoritalia, scrivete una mail ancoritalia.it e chiedete di venire con noi per costruire questo grande movimento popolare, in grado di mettere in condizione di non nuocere, questo potere infame che è incarnato dal ghigno malefico di uno dei personaggi più perfidi che la storia contemporanea ha partorito, vale a dire Mario Draghi. Va bene, cominciamo a ragionare insieme su come possiamo fare per costruire questa forza in grado di mettere a tacere il potere discriminatorio che oggi ci comanda. Sono pronto a rispondere a tutte le vostre domande. Martedì sarò a Roma, Piazza San Giovanni insieme al Fisi, vi invito a venire insieme all'amico Giro Silvestri, ci sarà anche Ugo Mattei, Francesca Donato, insomma sarà una festa, tanti amici lì per dire no a questo regime miserabile. Il 26 tornerò a Roma, lì è una piazza organizzata a Bocca della Verità interamente da Ancora Italia, venite anche lì. Insomma è il momento di unirci, di stare insieme. Va bene, l'aspetto sanitario del virus è da mettere in buona parte definitivamente. Toscano, salve, oggi mi hanno detto che Toscano è troppo divisivo, deve unirsi anche con Italexit. Allora, Daniela, io di questo argomento ho parlato un milione di volte, non una, ne due, ho parlato un milione di volte di Italexit. Io non avevo, non è niente con Paragona, però in politica per costruire delle alleanze bisogna essere in due. Se Paragona è convinto di essere autosufficiente, se lui è convinto di non aver bisogno di nessuno, se lui è convinto di poter interpretare da solo tutto il mondo della resistenza, buona fortuna, cosa gli possiamo dire? Quando io gli avevo teso una mano per cercare di una convergenza o perlomeno un dialogo, lui per tutta risposta ha cercato di comprarsi degli elementi molto scadenti del vecchio partito di Vox. Ma questo non è un modo onesto di fare politica, cioè già si comporta così nelle cose banali, figura di cosa può fare nelle cose importanti, per questo non mi fido di lui. C'è a Sondrio la sede di Ancora Italia. Allora, Roberto, scrivi a Luciano Tovaglieri, vai sul nostro sito www.ancoritalia.it e scrivi al coordinatore della Lombardia, Luciano Tovaglieri. Finalmente ti vedo a Roma, dai le indicazioni con luogo e orario, non vedo l'ora di ascoltarti dal vivo. Grazie, Mirtilla. Io sarò pomeriggio di martedì, mi pare che alle 15 inizia il nostro comizio ed è a Piazza San Giovanni. Perché non aderisci a Liberi in Verità con la Mendola e Viglione? Ecco, non so se Liberi in Verità sia un partito. In ogni caso io sarei felice di costruire un movimento insieme alla Mendola e Viglione. Se vogliono venire con noi le porte sono aperte. Da te Ancora Italia non decolla. Dove sei? Tu sci? Sei? Ecco, dimmi di dove sei così ragioniamo sulla realtà dove tu vivi. Francesco, siete poi riusciti a ricontattare i cotti tedeschi? L'avevo chiamato però poi non si è fatto sentire. Ci vediamo a Verona domani. Certo, Filippo, domani siamo a Verona. Vi aspetto tutti lì. Faremo un comizio con Ancora Italia. Il dottor Amariano Amici, sei un'ottima persona. Io mi concentrerei con ProItalia ed Alternativa, ma anche loro sono amici. Con Pino Cabras poi abbiamo un rapporto molto intenso, di collaborazione molto stretta. Io penso che con lui e con tutti gli amici di Alternativa arriveremo ad un'alleanza organica nell'interesse comune. D'altronde sono molto contento del fatto che Pino Cabras ha presentato al Ministro dell'Interno Lamorgese un'interrogazione parlamentare per chiedere conto di quelle dichiarazioni davvero incredibili del Prefetto di Brescia che ha evocato l'immagine del terrorismo nel parlare di una forza democratica, pacifica, serena, seria, colta come Ancora Italia. Vi aggiorneremo su quello che dirà il Ministro Lamorgese rispetto a queste dichiarazioni che hanno lasciato sgomenti, anche perché vengono da un mondo, quello del SISD, che in Italia non sempre ha espresso personalità rassicurante. Io insieme ad Antonio Ingroia ho seguito il processo Andrangheta stragista nell'interesse delle famiglie dei carabinieri uccisi. Quando facevo ancora l'avvocato sono stato delegato a Ingroia per seguire alcune udienze. In tutte quelle carte veniva fuori il ruolo spesso opaco degli apparati in tutte le vicende di strategia della tensione che hanno caratterizzato i cambiamenti di potere in Italia negli anni 70 in poi. Per cui è una cosa da non sottovalutare. Hai sentito l'iniziativa? Sì, l'ho sentita l'iniziativa di questo prete, anzi ho provato a contattarlo, cercherò di trovarlo, questo prete di Bergamo che ha messo in piedi, ecco Don Emanuele Personeni, che ha messo in piedi una iniziativa davvero interessante, ha utilizzato parole davvero nobili per spiegare perché è contrario a questa infame discriminazione e l'ho trovato davvero una persona luminosa. Non mi stupisce il fatto che il Vescovo del luogo, che sicuramente risponde a regole sataniche di puro potere, c'è un nemico di Dio, un nemico degli uomini, un uomo che interpreta la gerarchia in senso perverso, luciferino, che l'abbia colpito, ma deve essere felice Don Emanuele Personeni di essere stato colpito da un potere mondano, luciferino, satanico, malvagio, diabolico, perché questo testimonia ancora di più la sua fedeltà a Cristo e al messaggio evangelico. Sì, l'ho chiesto già a Edoardo Silo Salabini di trovarmi un contatto con Palamara per discutere del suo libro, per presentare il suo ultimo libro. Francesco organizza qualcosa in Sardegna? Siamo stati in Sardegna, ci tornerò volentieri, è stato bellissimo l'evento di Cagliari, insomma mi pare che a ottobre siamo stati lì, è stato un evento meraviglioso, organizzato benissimo, un popolo davvero che mi è rimasto nel cuore. Buonasera Francesco, Francesco, un grande volantinaggio, ecco vabbè ma tutto si può fare, si può fare tutto, intervista a Malanga e Ornella Mariani, pure questa è una buona idea, un modo più veloce degli email, ma scrivi qui di dove sei, scrivimi qua chiaramente dove sei, ne parliamo, luci piuttosto ferro, ecco vabbè servono corteggi giganteschi con uomini stile Canada. In Canada è venuta fuori davvero una bellissima protesta da parte di camionisti dignitosi che si sono messi a capo di questo desiderio di popolo di reagire contro questi soprousi, messi in piedi da un personaggio pessimo come Trudeau, un uomo servo dell'elite tecnocratica, un uomo nelle mani del sistema di Davos, insomma davvero massima solidarietà agli amici canadesi che hanno messo in piedi questa forma di protesta. Ecco stavo leggendo adesso i risultati del sondaggio, ecco c'è il controcanto che è in testa, immaginavo, poi piace pure dietro il sipario, magari le interviste singole sono all'ultimo posto. Hai sentito una comunità Novax in Italia, cosa ne dici di Marco Rizzo, cosa ne dico di Marco Rizzo? Io non ho niente contro Marco Rizzo, l'ho chiamato un paio di volte, ci siamo sentiti, però mi è sembrato uno molto legato ad una visione, come dire, molto personalistica dell'agire politico, cioè molto settaria, le prime volte che ci eravamo sentiti pensava che noi fossimo un contenitore di estrema destra, cioè pure un po' confuso, diciamo, nel non sapere con chi aveva a che fare. Cioè mi sembra più un uomo che ci tiene a difendere un recinto identitario, anziché cercare di trovare una soluzione comune e buona per tutti. Quando torno a Torino, ecco spero di tornare presto a Torino, qualche evento a Padova, guarda Armadillo domani io dovevo essere a Padova, poi invece gli organizzatori di questi di Veneto no Green Pass mi hanno comunicato che l'invito che mi era stato fatto lo hanno ritirato, io conosco pure le ragioni del ritiro di questo invito, insomma l'ho trovato molto sgarbato questo modo di fare, so che l'hanno fatto su pressione di alcuni dei relatori, diciamo, che saranno presenti domani nel palco di Padova, però questo modo di fare, insomma, di sicuro getta una lona di discredito un po' su tutto quel mondo, io non voglio polemizzare per carità, però insomma chi si comporta così merita poco, poca stima. Caro Francesco, sono così contenta, spero che accada anche da noi. Intervista a Blondè, ecco Blondè è una persona in gamba, è una persona che stimo molto. Che ne penso di 100 giorni da Leone? Beh, che sta facendo un buon lavoro Rocchesso, vedo che sta crescendo tanto nei numeri, nelle visualizzazioni, insomma, è un ragazzo che è in gamba, ha passione, insomma, penso che sia una persona che sta facendo un buon lavoro. Francesca, a Firenze domenica parteciperai anche tu? No, non ci sarò io. Caro Francesco, se cade Draghi riusciamo a condannare lui? Eh, non lo so Roberto, intanto dovrebbero, sì però, se ripeti sempre la stessa frase, vuol dire che vieni un po' a fare pubblicità qua per conto terzo, perché se ti rispondo, tu continui sempre a ripetere la stessa frase, evidentemente non vuoi parlare, cioè vuoi fare un altro lavoro. Intervista a Lameloni, beh, non credo che sia, diciamo, non credo che lei verrebbe qui, né tantomeno noi moriamo dalla voglia di sentirla, visto che lei può parlare su tutti i media mainstream. Francesco, potresti intervistare Claudio Tozzi? Non so chi sia, però se me lo spieghi, Mazzucco che fine ha fatto? Guarda, Mazzucco l'ho sentito fino a qualche giorno fa, tornerà presto, insomma, si è preso un momento di pausa, negli ultimi giorni so che si stava riposando, però tornerà presto, è sempre un amico Mazzucco. Perché non intervisti Matteo Gratis? Vabbè, Matteo Gratis, perché no? È un'ottima persona. No, Lameloni no, io, va bene. Ma Conte, che immunità? Va bene, insomma, ragazzi, volevo dire anche un'altra cosa. Secondo voi, per potenziare meglio il nostro, la nostra televisione, abbiamo capito, vabbè, che il controcanto è il format che piace di più, quasi il 50%, anche qui, vota a favore del controcanto. Ma secondo voi, cosa vorreste vedere di più su Visione TV? Vorreste che il talk fosse fatto diversamente, magari con un approfondimento più specifico sul tema, con più servizi, con più o meno ospiti, calibrato diversamente, che durasse di più o di meno? Ecco, fatemi sapere cosa pensate. Io in questi giorni stavo immaginando come poter rimodulare un po' la programmazione di Visione TV, però mi interessa conoscere il vostro parere. Maurizio Romani in Toscana non risponde. Tony, scrivi Antonello Cresti, o c'è Veronica Colagliani, insomma, ci sono tanti lì che lavorano in Toscana, evidentemente se non ti ha risposto una volta, non vuol dire che non risponde mai, però cerca Antonello Cresti, lui sicuramente ti risponderà. Vedere più ospiti. Quindi tu vorresti un talk, Luciana, con più di tre ospiti. Non toccare il controcanto, Maria Rosa dice che va bene così, pure a Tiziana il talk piace così, Salvatore vorrebbe rivedere il TG Flash, perché non rifai il match. Ecco, sono due programmi, abbiamo fatto poche volte. Il match non faceva grande, a me piaceva come format, quello uno contro uno, però non faceva grandi numeri. Ecco, insomma, era un format che non ha funzionato tanto rispetto agli altri, e quindi per questo abbiamo preferito poi fare sempre il talk la sera, anziché il match. Il TG Flash non ho riuscito a farlo una volta, perché quello presuppone un impegno molto grande nel montaggio, e qui, insomma, ci vorrebbe un investimento ancora più importante per riuscire a fare tante cose. Però di fare un programma più satirico ci stavo pensando. Ecco, è una cosa che ho in mente, e cercherò nei prossimi giorni, cercherò di capire se si può aggiungere, diciamo, questo programma più satirico alla nostra programmazione. Il talk show della sera è il migliore, con tre ospiti va bene così, vorrei vedere i candidati di Ancora Italia e alle comunali di Palermo. Ma quando faremo, quando partirà? Allora, vi voglio dire una cosa, è chiaro che il nostro progetto informativo è legato all'agire politico. Cioè, noi, come Visione TV, siamo un progetto culturale, mediatico, comunicativo, però al servizio di un cambiamento che deve essere effettivo, politico, reale, concreto, visibile. Per cui, tutto quello che noi stiamo facendo lo facciamo con l'obiettivo di impedire a queste persone malvagie che ora governano di continuare a imprimere sofferenza contro un popolo inerme. E' per costruire una forma di difesa contro questi mondi e a favore delle persone che oggi sono ricattate, umiliate. Per costruire una società diversa, per armonizzare il nostro mondo intorno ai valori di solidarietà, di bontà, di comprensione, di empatia, senza cedere a atmosfere fatte da divisione volutamente creata, atmosfere di perfidia, di arroganza, di ipocrisia pura. Ecco, questo è uno degli obiettivi che noi vogliamo perseguire. Per questo io vi dico il fatto di girare tutte le piazze serve a questo, a creare una comunità umana di persone che stanno insieme, si riconoscono, si difendono e in un certo senso reagiscono rispetto ai soprusi di un potere impazzito. Le interviste internazionali sono fantastiche, mettere i tottotitoli rende tutto più semplice. Guarda, noi stiamo pensando una cosa, che le interviste, quelle in inglese, in prospettiva, noi dovremmo farle con una traduzione simultanea. Stiamo cercando di capire come farle, però lì è il segreto, secondo me è lì, per consentire a chiunque, mentre l'ospite parla in inglese, di sentire la traduzione in italiano. Non è semplicissimo, però ci possiamo arrivare. Intervista, Peter, comunque siete bravissimi, grazie Gaetano. Talk con ospiti studio. Ecco, guarda, questa è una cosa che mi piacerebbe pure a me. A me sarebbe piaciuto costruire un talk con un ospiti studio che mi facesse da spalle, cioè non sempre solo con me, magari ogni tanto avere una spalla, un co-conduttore qui con me, però avrei bisogno di avere nuovi giornalisti, di avere forze fresche, perché pure per me ogni tanto sarebbe importante trovare qualcuno in grado di aiutarmi, di coadiuvarmi, però non è semplicissimo. Paola Maldi, Paola Maldi è brevissimo, cari amici in Veneto, vai lo stesso un'altra volta, così hai modo di conoscerti personalmente, come ti ho conosciuto io. Guarda, Peter, io non ho niente contro Veneto, contro Green Pass, io so che ha esercitato pressioni contro di me, però, insomma, non mi interessa tanto la persona che utilizza questi mezzi così meschini. Mi dispiace soltanto vedere che persone grabate, come questi Veneto contro Green Pass, che prima avanzano l'invito al presidente di un partito che accetta, che organizza l'agenda per ottemperare all'invito che ha ricevuto, poi un paio di giorni prima ti cercano qualche scusa per dire no, non si può più perché hanno ricevuto delle pressioni da parte di personaggi che io riconosco, conosco, riconosco più che conosco e non sono in grado di resistere di fronte a pressioni disdicevoli. Insomma, non è edificante per nessuno questa storia. Allora, non dirlo dal suono di Modena, non c'è la traduzione scritta, perché non fate interviste? Va bene, Francesco, grazie, grazie Palmira, tu sei sempre carina, sei sempre presente. Gabriele Sannino, è stato già da noi tempo fa, potremmo intervistarlo di nuovo. perché non attiviamo la post paper, il contributo? Perché non si può, perché una società non può aprire una post paper, si può aprire solo a titolo personale, mi dicevo. Più che una spalla, ci vorrebbe una dialettica. Cioè, nel senso che qualcuno che fa un controcanto a me, dici tu, YouTube Bella, vabbè, però io già lo faccio agli altri, poi se mi metto pure uno che viene qua dentro a fare il controcanto a me, poi diventa una ruota che non finisce mai. Senti Fraiese, vorrei tanto sentirlo Fraiese, anzi, se qualcuno lo conosce, se è la sua mail, perché lo vorrei sentire, una persona che stimo tanto, però non sono ancora riuscito a trovarlo. Se qualcuno di voi può aiutarmi a rintrecciare i Fraiese, lo ringrazio fin da ora, perché è una persona davvero, davvero stimabile. Il figlio di Montesano, ecco, lo stanno aggredendo in maniera davvero indegna. Io voglio esprimere il massimo della solidarietà al figlio di Montesano, che non ha scritto niente di particolarmente grave, sono molto più grave le dichiarazioni di uno come cazzola che voleva utilizzare i cannoni contro la gente che protesta, mentre il figlio di Montesano si è limitato a fare una battuta che però contiene degli spunti interessanti, perché questo è un Paese fatto da depistatori, è un Paese di ingannatori, è un Paese di misteri, è un Paese che non ha risolto mai nessuna delle tragedie del passato, per cui non so come si fa a ritenere che le atmosfere di un tempo non si possano riproporre anche nel periodo che noi stiamo vivendo, non capisco su quale basi logica si utilizza questo tipo di dati, di metodo di ragionamento. Toscano, la traduzione simultanea, lascia la voce live, mentre la voce originale resta muta, va bene. Chiama Silver, ecco Silver Erbuti è un'ottima persona, sgarbi, intervisti gente come me, cosa ne penso di Red Ron, ma insomma, l'ho chiamato una volta, però non mi è piaciuto come si è, insomma, non è stato particolarmente simpatico, quindi non lo chiamo più. Fraiese forse non vuole esprimersi in una tv che è di appartenenza politica, non lo so, a me non l'ha mai detto così, insomma, io non l'ho sentito, ma non credo che sia questo il problema di Fraiese. Quando verrei a Torino, sono stato la settimana scorsa a Torino, io credo che Radio Radio stia facendo una cortina sanitaria, intorno, eh, questo è interessante come, come, come chiave di lettura, perché questo che tu dici, Marco Marte, secondo me, è possibile, cioè nel senso che questi qua, spaventati un po' dalla crescita di visione di Buda, i numeri che facciamo, quando tu parli di cortina sanitaria e paragonali a qualcosa, stai dicendo che magari le persone che vanno più spesso lì, ricevono magari, anche, insomma, ci vanno pagate, non so se ci vanno grati, sono pagate, però ricevono, forse, probabilmente, il consiglio di non farsi vedere troppo dalle nostre parti, e quello che tu dici, Marco, secondo me, può avere un senso, però se vuoi, se vuoi specificare il perché di questa tua sensazione, ne parliamo, perché è un argomento interessante, Beno, non lo dovevamo intervistare, poi è saltato per problemi tecnici, la prima intervista, e non siamo ancora riusciti a fissare una nuova data buona per lui, come facciamo a venirne fuori, Duranti è amico di Paragone, non mi piace, guarda, Duranti non piace manca a me, al di là dell'amicizia con Paragone, perché è un uomo che ho conosciuto, e che non mi piace, ma questo che dice Marco, è molto interessante, concordo con Marco Marte, sì, secondo me si sta creando un mondo lì, di persone che stanno con un piede nel mainstream, e con un piede nella controinformazione, Paragone è l'elemento di congiunzione perfetto di questi due mondi, cioè un uomo cresciuto, pasciuto, costruito, arricchito in un certo senso, che comunque ha avuto sempre bei contratti, dalla televisione, dalla sette, insomma dalla Padani, dal sistema di potere dominante, che però viene in parte sganciato nel nostro mondo, quello dei contestatori, e viene pompato da una tv che è una via di mezzo, o radio radio, tra un sistema di potere e una controinformazione, comunque è una cosa ingegnosa quella che hanno fatto, secondo me è possibile che qualcuno stia provando a colpirci, in vista delle politiche, perché ci temono, e secondo me stanno facendo un lavoro a tenaglia, cioè stanno provando a colpirci, sia le corazzate, diciamo, quelle che hanno molti soldi, e poi magari dei canali un po' più pirati, un po' più recentemente venuti fuori dalla ribalta, che cercano di coprire quello spazio più corsaro, per provare a svuotare da entrambi i lati visione tv, cioè da una parte cercando di togliere personalità, che hanno visibilità, e che magari vengono consigliate di non farsi vedere qui, e dall'altro magari incentivando una comunicazione aggressiva, che va a richiamare un pubblico che affine al nostro, che però deve essere orientato politicamente verso lì che non sono i nostri, io li vedo queste manovre, non è che sono cieco ragazzi, però questi che pensano di metterci nel sacco, mi assicuro che si faranno solo male da soli, questo ve lo metto per iscritto, a noi ci faranno il solletico, e invece loro per stupidaggine più che altro, pensando di sentirsi furbi o di essere, si faranno male, malissimo, in maniera definitiva, ecco su questo ve lo posso assicurare io. Va bene, sono già passati 25 minuti, nella tv il tuo nome Francesco non è mai uscito, ma mi aveva invitato la sette di Floris, mi hanno invitato, mi hanno chiamato un paio di settimane fa, poi sono spariti, ma se volete venire siamo qui, se avete altri da sentire, io non è che muoio dalla voglia di andare alla sette, figurati, insomma io preferisco rimanere qui con voi, nei nostri canali, dentro il nostro spazio di libertà, no Claudio e Marco Mori, proprio non lo voglio né vedere né sentire, perché era con noi, poi si è comportato in maniera, davvero, insomma non lo voglio manco giudicare, però insomma Mario Mori me lo ricordo quando era in Vox, mi ricordo come si è comportato, non mi manca proprio, che ci ho preso, ma è una tua sensazione, testando le reazioni, vedendo il comportamento, ma mi sembra che ci ho preso, Marco sì, però questa sensazione che tu hai Marco, è una sensazione di uno che comunque studia le cose, quindi secondo me qualche elemento ce l'hai per sapere, io seguo il radio radio, secondo me anche Dico Fusato, sì, lo so che Fusato è una rubrica sul radio radio, lo so ben, però lui fa l'intellettuale, fa l'ideologo, le sue idee fa bene a farle circolare ovunque, il progetto politico invece è un'altra cosa, non andare nella TV di regime, dovresti intervistare la giornalista olandese, segna di questo nome, il professor Gibilisco, Cesare Sacchetti, Cesare Sacchetti è un altro che non mi convince per esempio, perché l'avevo invitato, quando c'è stato il caso Biscardi, lui ha scritto un pezzo molto violento contro Biscardi, avevo detto vieni a parlare qui da noi, non è venuto, non è voluto venire, e sta cosa non mi è piaciuta. Durante per te ho un grande, va bene, dai non facciamoci la guerra fra noi, ma guarda, io non voglio fare la guerra a nessuno, sono gli altri che la fanno a noi, io cercherei di trovare una collaborazione, una sintesi con chiunque, però con tutti quelli che la guerra la vogliono fare al sistema, non a noi. Libreria esoterica Cavour, il Toscano raddoppio dovrebbe durare di più, va bene. Ma Fusaro lo invitano in televisione come filosofo, non è che lo invitano come leader politico, domani sono a Verona, sì. Va bene ragazzi, è già passata questa nostra mezz'oretta insieme, anche questa settimana è stata, è passata rapidamente, io vi ricordo che Visione TV si regge soltanto grazie al vostro sostegno, vi invito quindi se potete a darci una mano, alcuni ci dicono, ma perché per sostenersi non metti pubblicità, o non fai dei programmi soltanto per abbonati, ma vi ripeto, siccome il senso della nostra battaglia è più politico, è prevalentemente politico, certo tutti dobbiamo vivere, lavorando è chiaro, però la finalità ultima del nostro lavoro è di tipo ideale, è finalizzato a cambiare questo sistema, a migliorarlo, a rimettere al centro il protagonismo popolare, per cui è chiaro che il nostro messaggio continuerà sempre a rivolgersi a tutti in chiaro, però chi vuole, chi può, ad esempio adesso qui siamo in 1.122, chi volesse aiutarci può andare qui alla sezione sostienici, mettere una spunta qui, decidere di fare una donazione mensile, basterebbero anche 5-10 euro al mese per aiutarci a pianificare le prossime mosse e sfidare il sistema comunicativo mainstream. Va bene cari amici, notizie di Targenio? No, è un po' che non lo sento Targenio, è ovviamente sparito di nuovo, potresti intervistare la dottoressa sudafricana, sarebbe una buona idea, anche se è una filovaccinista convinta, potresti intervistare, sì posso farti un nome, certo fallo, siamo in chiusura, ma fallo, il giornale La Verità sembra finanziato da Fratelli d'Italia, non so, io La Verità stimo soprattutto Borgonovo, mi piace molto, così mi piacciono anche altri giornalisti che fanno belle inchieste, c'è quella Patrizia Flotterreiter che fa un buon lavoro, però è chiaro che loro sono una forza mediatica che fiancheggia chiaramente delle forze politiche che sono di sistema, quindi non è che ci si può aspettare da Belpietro che si metta alla fine a legittimare o a dare forza, visibilità a un partito come il nostro, perché è chiaro che lui gioca una partita politica provando a portare acqua al mulino di quelle forze che sono già tra virgolette espressione dell'establishment di centro-destra, per cui paradossalmente per la verità è più importante, è più pericoloso che cresca una forza come Ancora Italia che magari va a svuotare il bacino politico dei vari Salvini e Meloni piuttosto che il PD che cresca il PD. Va bene cari amici, grazie per essere stati con noi anche questa sera, io vi invito a passare un buon fine settimana, domani sono a Verona e dopo domani a Brescia per chi volesse conoscermi personalmente e fosse nelle vicinanze ci possiamo trovare lì domani a pomeriggio a Verona e dopo domani a Brescia. Grazie a tutti voi, un buon fine settimana. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.